Attimi di grande paura si sono vissuti ieri nel tato pomeriggio nel pieno centro di Campobasso in un noto centro commerciale nella zona dell'ex stadio Romagnoli. L'azione delittuosa è avvenuta alle casse del supermercato. Due sarebbero i rapinatori, un extra comunitario e un italiano non residente nella provincia di Campobasso. I due, dopo aver rubato della merce per darsi alla fuga, avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino su commessi e i tanti visitatori presenti a quell'ora. Grande bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. Due dipendenti sono finiti al pronto seccorso. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118, delle autorità, raccolte numerose testimonianze da parte del personale della squadra volante nella questura di Campobasso. Ovviamente sono in corso le indagini. Oltre al cittadino extracomunitario, l'altra persona coinvolta sarebbe un italiano non residente nella provincia di Campobasso, già in passato oggetto di approfondimenti da parte degli agenti dopo aver asportato alcuni prodotti commerciali all'interno di un supermercato. Un corso ulteriori verifiche anche da parte della squadra mobile per definire la precisa dinamica dei fatti e stabilire che abbia utilizzato lo spray al peperoncino, la posizione del presunto autore del furto e inoltre al vaglio anche per l'adozione nei suoi confronti di provvedimenti amministrativi da parte del questore. Fondamentali saranno i filmati delle diverse telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale. Grazie.